Il decreto IRPEF andava difeso alla Camera perché 80 euro al mese per milioni di italiani non sono arrivati in busta paga solo il 27 maggio ma arriveranno il 27 giugno, il 27 luglio, il 27 di ogni mese fino a fine anno e dentro fine anno con la legge di stabilità lo garantiremo per sempre. Tutto questo non poteva essere messo in pericolo per la solita opzione ostruzionistica e senza senso delle opposizioni in particolar modo del Movimento 5 Stelle.